Benvenuti al mio canale Ed ecco qui i nostri tre UC Browser Allora, questo è una cavalata, non lo guardate Allora, il primo è quello per i telefoni normali, fascia alta, eccetera, eccetera Il secondo, UC Browser Mini E per i telefoni con prestazioni minori E il terzo io ve lo sconsiglio, cioè non è niente di che Quindi io vi consiglio di installare UC Browser for Android Che è molto ottimo, provatelo Allora, entriamo subito nell'app Bene, siamo dentro, stiamo aspettando il caricamento Ok, allora, questa è la schermata principale In cui io qua mi sono salvato già delle scorciatoie Perché io di solito lo faccio, sono molto più comodo Allora, andiamo subito a vedere le impostazioni Il font, cioè che sarebbe la scrittura, la lasciamo in automatica E togliamo questa spunta Perché sennò vi disordina tutte le scritte Quindi io lo lascerei senza Forza zoom io non lo metterei Perché nelle pagine in cui non lo vuole Poi magari fa difficoltà, lasciamo stare Text only, mette solo il testo e non mette le foto Quindi io lo lascio, così Qua mettiamo, dobbiamo mettere tutte e due le spunte Per il precaricamento della pagina Allora, lo mettiamo su alt page Perché sennò era messo su app page Poi, browser setting Allora, immagini di qualità Io ho messo low Poi questo l'ho attivato, eccetera, eccetera Lo scroll options Per chi preferisce i bottoncini Cioè che clicchi senza fare lo scroll Vi manda direttamente giù o su Mettete scroll button Io ho lasciato tap to scroll E uso il dito e faccio prima Cioè, scroll e basta Poi la rotazione l'ho lasciata automatica La luminosità non la toccate Tanto in base a come la mettete il browser cambia La luminosità Zone bootion io non l'ho messo perché sono scomodo Animazioni l'ho lasciate E lo status bar l'ho lasciato Perché sennò ve lo toglievo Hardware acceleration Lo lasciamo spuntato Poi andiamo su download setting Qua vi dice i massimi download alla volta Io non lo lascio Mettiamo nei due va? Che sono più comodo io Data usage Praticamente questo qui Vi toglie un po' di schifezze nella memoria Quindi potete navigare un po' meglio E basta ragazzi Queste erano le impostazioni Poi andiamo su addons Cioè i file aggiuntivi C'è speed mode Che vi dirà cosa potete usarlo Quindi desktop, mobile e light Io lo lascio con mobile La velocità del caricamento delle pagine è molto ottima Adesso vi faccio vedere Andiamo su google Et voilà Già caricata Poi vi faccio vedere un sito Che è molto pesante da scaricare In cui si possono guardare film streaming Anche quelli appena usciti Cioè usciti da poco Si chiama filmstream.me Allora ecco La pagina è stata già caricata Come vedete La fluidità dello zoom è molto ottima Naturalmente quando zoom Sfoca Poi quando lascia andare Va un po' meglio Proviamo a caricare un film Mettiamo padding tone L'orsetto qua peloso Aspettiamo che carica un attimino Ok clicchiamo sul triangolino Per vedere se va Aspettiamo il caricamento Et voilà Eccolo qui Il nostro Il nostro bel film Come vedete Se io vado avanti Due secondi E già vi ho caricato il pezzo dopo Questo era un sito Abbastanza pesante Un sito anche abbastanza pesante Ma non pesante Che vi fa sprecare megabyte Solo un pochino da caricare E il mio sito Allora come vedete L'ha già caricato Più o meno Non ha caricato ancora tutto Ma più o meno si E un'altra cosa Che mi piace di questo browser E che ha Il Adobe Flash Player Che potete caricare La chat Perché su molti browser Non potete farlo Dice che il plugin Non è supportato Potete scegliere Tramite le impostazioni Se metterlo in automatico O se Per far avviare il plugin Cliccare Come vedete Mi ha caricato Quanta gente Mi ha caricato la chat E A posto Allora ragazzi Questo era UC Browser Se volete altri consigli Ve li darò Basta che me li chiedete History Sarebbe la cronologia Ogni tanto La cancellate Ma io Ho impostato Che quando esci In automatico Te la salva Cioè Te la elimina Scusate Questo ragazzi Era UC Browser Se vi piace Mettetemi un like E iscrivetevi al mio canale E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti